Siamo tornati di nuovo insieme con il nostro consueto appuntamento quotidiano. Oggi abbiamo in collegamento, ormai la definisco, un'amica di Padre Pio TV, Daniela Marcone, dell'Ufficio di Presidenza di Libera e responsabile del settore memoria. Buongiorno Daniela, benvenuta. Buongiorno a te e buongiorno a voi tutti. Di solito siamo soliti chiamarti intorno al 21 marzo, qualche giorno prima o qualche giorno dopo, proprio per parlare della giornata in memoria appunto delle vittime della mafia, però oggi siamo qui perché vogliamo parlare insieme a te di un libro molto bello, anche se definirlo bello e riduttivo, che ha scritto tua zia, Maria Marcone. Il libro si intitola Storia di Franco, edito dalla Meridiana con la prefazione di Mario Desiati. Io non immaginavo che avessimo una scrittrice pugliese appunto nata e cresciuta a Foggia così brava come tua zia Maria, che in questo libro racconta la nascita, l'infanzia e la giovinezza di tuo padre, ecco Francesco Marcone. Allora da dove partiamo? Posso partire dalla dedica che è stata fatta di questo libro? Certo, beh sicuramente la dedica che abbiamo fatto alle persone che ci aiuteranno a prenderci cura dei sogni, no? A Maria e Franco, a coloro che si prenderanno cura dei loro sogni. L'abbiamo pensata io e Paolo, mio fratello, ricordando papà, Francesco, Franco per gli amici, che era il fratello più piccolo, più giovane, e zia Maria, che invece era la sorella più grande. La loro vita sempre insieme, indissolubilmente legati. Due fratelli che si sono amati molto ed è toccato a mio padre, al più piccolo, andare via per primo, ovviamente contro la sua volontà. Zia Maria però non ha smesso di pensare a lui e di farcelo sentire vivo, vitale. Il mio percorso di impegno lo devo anche a lei, oltre che a Libera, a Donciotti, ma anche al fatto che lei non ci ha lasciati soli. E anzi, il primo gesto di zia Maria, quando ha capito che a Foggia non si parlava di questa storia e che nell'arco di un mese eravamo rimasti soli come famiglia Marcone, lei da Bari scrive, invia una lettera a tutti i quotidiani e viene pubblicata sulla gazzetta in cui chiede alla cittadinanza di non dimenticare Franco Marcone. Ecco perché poi nel 96 decide di scrivere questo libro che vedrà poi la luce nel 98. Però è ai loro sogni che abbiamo voluto dedicarlo. Ricordiamo, per chi non conoscesse la storia di Francesco Marcone, fu assassinato a colpi di pistola la sera del 31 marzo del 1995. Era direttore dell'ufficio del registro della sua città e un ufficio delicato, sto leggendo appunto proprio dalla prefazione di Desiati, preposto alla tassazione di tutti gli atti di trasferimento di beni mobili e immobili. Poco prima di essere ucciso aveva inoltrato un esposto in cui denunciava alcune irregolarità sollevando il sospetto che alleggiasse una rete criminale tra pubblico e privato. Questo libro però non è dedicato a quel momento drammatico della vita di Francesco Marcone e della vostra famiglia, ma è dedicato alla sua nascita, all'infanzia, alla bellezza di questo bambino, poi diventato ragazzo, che colpiva per mitezza, giocosità e per la particolare bellezza e natura espansiva. Daniela, posso chiederti che sensazioni ti ha provocato leggere dell'infanzia di tuo padre? Ma ti devo dire che quando io ho letto per la prima volta il manoscritto, perché Zia Maria ci fece leggere il manoscritto battuto a macchina da suo marito, Zio Antonio, il professor Ricci, anche lui professore delle scuole superiori di Bari, che l'ha accompagnata tutta la sua vita e batteva a macchina, il suo editor diciamo, e batteva a macchina i suoi libri. Non ti nascondo che quando lessi quel testo io rimasi un po' meravigliata, perché appunto non raccontava delle indagini della nostra richiesta di verità e giustizia, ma raccontava della loro infanzia, della loro vita e in particolare si rivolgeva ai più giovani. E le chiesi anche, ma come mai hai deciso di non raccontare, di non spingere sulla verità e sulla giustizia? E lei mi disse perché non sarebbe stato giusto, perché abbiamo la necessità di ricostruire la storia di tuo padre, di mantenerla salda nelle sue radici e di conservarla così, la sua vita, non solo la sua morte. Io in quello lontano 98, non lo capì, ero troppo addolorata, le fui grata ovviamente che fosse pubblicato questo libro per cui si potesse parlare della storia di papà. Però ovviamente è come se mi aspettassi qualcosa di diverso, ero molto presa dalla ricerca della verità giudiziaria. A distanza di anni, quando ci siamo chiesti con Elvira Zaccagnino, con la mia famiglia, quale dei libri di Zia Maria riportare in vita, da quale partire, abbiamo pensato di ripartire proprio da storia di Franco, in cui Zia Maria ripercorre la loro vita insieme, perché poi neanche il caso ha voluto che io mi occupassi di memoria all'interno della rete di Libera e come gruppo memoria noi raccontiamo le vite delle persone. Questo libro ci permette di sentire papà, mio padre Franco Marcone, non come una vittima, ma come una persona che ha avuto il suo percorso di vita, la sua infanzia, i suoi sogni, i suoi progetti. E questo ci fa sentire da un lato quanto la mafia, la criminalità ci abbia portato via un tesoro prezioso di amore, di bene e dall'altro lato quanto dobbiamo essere grati anche a Zia Maria, a Maria Marcone, per averci permesso anche questa riflessione, non solo le tante riflessioni che condivideva con il suo pubblico di lettori e con noi della sua famiglia, ma anche questo racconto della loro infanzia e non dimentichiamolo della guerra a Foggia. Certo. Viene dimenticata, viene dimenticato che la radice anche dello sviluppo economico di questa difficile città parte dalla ricostruzione di una città devastata. Infatti lo racconta molto bene, appunto racconta della guerra, del fatto che poi abbiano trovato alloggio, siano stati sfollati come tanti foggiani, hanno trovato alloggio a Troia e racconta anche la quotidianità, la difficoltà di non avere niente, di non sapere appunto a volte anche come trascorrere il tempo, però i bambini erano giovani, quindi erano piccoli e quindi trovavano un modo per divertirsi e giocare anche se c'era questa guerra, questa brutta guerra in corso. C'è un episodio, ti sembrerò romantica, ma è molto toccante, quando tua zia racconta, Maria Marcone racconta la storia di un uccellino con una zampa ferita e tuo padre Franco se ne prese cura, però non riuscì a salvarlo, decise di seppellirlo. Qui una frase, Daniela, straziante a proposito appunto del fatto che è troppo brutta la morte di chi si vuol bene e tuo padre disse preferisco che siate voi a seppellire me perché è troppo brutta la morte di chi si vuol bene. A me è sembrata quasi una profezia. Beh, io ti devo dire, non so se poi questa frase è stata mai detta realmente da papà o se, zia Maria l'ha immaginata per costruire anche, per raccontare. Certo, una licenza poetica. Una licenza poetica anche per raccontare la sensibilità di papà, perché papà era realmente, e serve questo anche per ricordarlo, non come il duro esattore delle taste, dirigente del Ministero delle Finanze, ma come un uomo a tutto tondo, dalla profonda umanità. E quello che è assolutamente reale è il suo amore per gli animali, l'episodio dell'uccellino, perché ce lo ha raccontato tante volte anche la nonna, la mamma, quindi la loro madre, una donna fortissima, tenace, che come viene raccontata, Ninella, nel libro, e poi il papà non ce ne ha mai parlato, ma io sapevo di questo episodio e soprattutto so dell'amore per gli animali. Per gli animali e per la natura, appunto, viene anche raccontato che nel giardino dei nonni avevano imparato a stare a contatto con la natura. Vorrei anche ricordare che nonno Arturo è stato direttore della biblioteca provinciale, da lui stesso riordinata e resa funzionante. Quindi, come dire, è un altro tassello importante per la vostra città, per la città di Foggia. Daniela, lo dicevamo anche prima, Maria Marcone ha deciso di rivolgersi ai giovani, perché dice bisogna, ma credo che l'abbia ripetuto anche tu più volte, perché bisogna decidere da che parte stare. Sì, lei si rivolge ai giovani perché sente l'esigenza di consegnare questo messaggio ai giovani. Però, ovviamente, questo libro che fa parte del filone narrativo in cui si rivolge appunto ai ragazzi è uno dei, come posso dire, dei filoni a cui lei tiene di più. Infatti i suoi libri più, che poi hanno vinto anche dei premi, sono rivolti ai giovani, a partire dall'astronave di Alec a Nicolino e questo, anche tanti altri. Volevo ricordare brevemente il fatto che Zia Maria è stata un po' anche recuperata, la sua figura, la sua scrittura da Mario Desiati. Ecco perché poi la prefazione di questo libro ce l'ha donata a Mario Desiati e per noi è stato molto importante che Desiati iniziasse a parlarne nei suoi libri e prima ancora di scrivere di Maria Marcone nei suoi libri ne parlasse negli eventi pubblici. Questo è stato molto importante e chiedo anche agli scrittori dell'oggi pugliesi di fare la stessa cosa di Desiati, di portare non solo Zia Maria, ovviamente, ma le scrittrici e gli scrittori di quegli anni che, diciamocelo, non sono stati valutati per quello che erano, per il grande valore che avevano, che raccontano la nostra regione, ma anche un'Italia, un pezzo d'Italia, non solo la Puglia, ma anche un'Italia che lottava. Possiamo dire che Zia è stata tra le prime scrittrici della nostra terra ad affermare della libertà delle donne e della necessità che le donne non fossero soffocate dalla figura maschile e da nessun soppruso. Daniela, ci dobbiamo fermare qualche istante perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci fermiamo, ma torniamo con te tra pochissimo. Lì nella regia. Siamo collegati con Daniela Marcone. Oggi vi stiamo presentando il libro scritto da Maria Marcone, Storia di Franco, edizioni La Meridiana, la prefazione di Mario Desiati che definisce Maria Marcone nella spina dorsale della narrativa pugliese. Daniela, non può mancare una domanda legata alla situazione attuale che sta vivendo Foggia e la provincia. Ricordiamo che la città è stata sciolta per infiltrazioni mafiose nel 2021. Quanto storie come... quanto la memoria oggi fa e deve fare la differenza? Io sono molto convinta, lo faccio con tutto il mio impegno, con tutte le mie capacità, per appunto condividere con quante più persone possibili i nostri percorsi di memoria a partire dalle storie delle vittime innocenti di mafie, ma anche per consegnare la capacità di fare memoria del nostro territorio. Ecco perché per noi è importante ricordarci che le nostre mafie non sono delle mafie giovani, forse sono le mafie tra le più giovani, tra le organizzazioni mafiose d'Italia, ma non certo sono nate da poco, anche se poi l'attenzione su queste mafie appunto si risveglia nel 2017 dopo la strage di San Marco e l'Anis. Ma guardando all'oggi, se noi percepiamo che sono delle mafie che nascono alla fine degli anni 70, hanno fatto un loro percorso molto forte, di grande penetrazione del tessuto economico, sociale e culturale della nostra terra, della nostra provincia, possiamo dire che la situazione è molto grave. È molto grave non più in termini di indifferenza, perché c'è una grande attenzione al territorio, c'è un grande lavoro da parte delle forze dell'ordine, della magistratura tutta, dalla procura di Poggia alla DIA di Bari, c'è un lavoro in sinergia, però se noi andiamo a leggere l'ultima relazione della direzione investigativa antimafia della DIA, la relazione semestrale che viene pubblicata sulla situazione di tutte le mafie d'Italia e prendiamo le pagine relative alla nostra provincia, sono sempre più lunghe, sono sempre maggiori come numero di pagine e la situazione è molto seria. D'altro canto non dimentichiamo che a Foggia e provincia abbiamo già avuto 13 omicidi, non si è trattato di persone, chiamiamole così, estranei alle dinamiche mafiose, ma ci sono molto gravi, sono situazioni di violenza che accadono nel nostro territorio e quindi non vanno prese assolutamente sotto gamba, ci fanno capire di come qui ci sono dei gruppi mafiosi sempre in guerra per affermare il proprio potere su questo territorio e quindi ovviamente ci aspettiamo che anche la cittadinanza più indifferente, più cinica, più convinta che alla fine non cambi mai nulla, si risvegli, si attenta perché poi saremo chiamati anche noi a Foggia, capoluogo di provincia, saremo chiamati alle urne, alle elezioni amministrative quando cesserà lo scioglimento nel prossimo anno e lì bisognerà fare la scelta giusta. È così, è così sia come scrive tua zia Maria Marcone appunto in una delle ultime pagine, l'uno degli ultimi capitoli intitolato E ora che fare? Vorrei ricordare che molte delle opere di Maria Marcone sono state tradotte anche all'estero tra cui la Germania, la Svezia, il Canada e l'Australia e questo libro come scrivete appunto nella postfazione tu Daniela e tuo fratello Paolo è molto diverso da Processo alla città che purtroppo non ho letto anche perché dicevamo prima non si trova agevolmente in libreria né nelle biblioteche, speriamo insomma magari che si possa in qualche modo leggere questo libro perché Storia di Franco è diverso da Processo alla città Daniela approfittiamo della tua presenza così magari ci aiuti e ci dai qualche indicazione su purtroppo appunto opere che non abbiamo letto Beh Processo alla città è un piccolo libro, quasi un volumetto proprio, quasi un depliant chiamiamolo, che lei fece pubblicare, ha chiesto a degli amici editori di pubblicare subito dopo la morte di papà in cui racconta l'indifferenza della città e le figure che in questa indifferenza come il vescovo dell'epoca Monsignor Casale e altre persone riuscirono invece a trascinare la città fuori dall'indifferenza perché chi può mai dimenticare l'omelia di Monsignor Casale durante nel corso della messa di funerale per papà lui molto coraggiosamente disse ma quante altre persone dovranno essere uccise perché la città si svegli perché tutti noi capiremo che questa città è una città in pericolo e lei riporta queste parole come le parole di altri che coraggiosamente, quasi in solitudine in un territorio in cui la vicenda Marcone doveva morire nel silenzio quindi uccidendo ancora una volta la figura di papà fa pubblicare, è un testo molto interessante ovviamente può sembrare per alcuni passaggi anacronistico perché poi i fatti hanno raccontato altre cose ma è estremamente interessante cercheremo di darlo alle stampe il prima possibile perché sia letto e soprattutto appunto possa arrivare nelle mani dei più giovani posso chiederti in conclusione Daniela se ci regali un tuo ritratto personale di Maria Marcone? Allora, molto volentieri Maria Marcone ovviamente essendo mia zia per me era una persona molto vicina e quando litigavo con mio padre in particolare mio padre la chiamava non dimentichiamo che non c'erano i cellulari quindi c'erano solo i fissi e diceva a mia zia Maria chiamala tu Daniela perché veramente non vuole ragionare e io ero testarda come lei e quindi zia Maria era veramente l'unica che mi chiamava mi acchiappava e mi diceva beh basta Daniela hai fatto la tua rivoluzione anche io ero come te però ora è il momento di riparlare con i tuoi di riparlare con tuo padre di venire a più miti consigli e quando le cose andavano veramente male papà nel fine settimana quando finivo la scuola mi metteva sul treno e mi diceva a me dai vatti a stare una giornata con zia Maria così poi ritorni più serena ma sì perché lei mi ascoltava io ero una ragazza introversa sembra strano oggi sono così aperta, socievole ma da adolescente ero introversa e invece a zia raccontavo le mie pene non so magari anche le mie pene d'amore e insieme poi facevamo delle cose bellissime ecco voglio concludere con questo delle cose bellissime perché zia Maria era un'artista a tutto tondo e oltre a essere scrittrice era anche pittrice, scultrice e si era improvvisata anche sarta nel senso che andavamo a comprare delle pezze di stoffa o di pellame e mi improvvisava una borsa oppure una mantella uguale alle sue e io ritornavo a Foggia con questi accessori che per me erano straordinari perché li indossava anche lei magari erano un po' strani grazie davvero per come dico spesso averci aperto il cassetto dei ricordi non so se è capitato solo a me ma magari anche altre persone che hanno letto il libro è facile in alcuni passaggi riconoscersi in alcune dinamiche familiari credo sia un po' comune qualcun altro ti ha detto anche questa cosa Daniela? sì, me lo hanno detto in tanti e non ti nascondo che è una delle cose che mi fa più piacere perché sento che Zia Maria può raccontare il nostro modo di essere la nostra foggianità la nostra pugliesità il nostro essere cittadini però di un paese cittadini in cammino che ne hanno passate tante la ricostruzione, quindi le guerre le dominazioni ma hanno sempre il coraggio di riprendere a lottare di riprendere a essere se stessi con le proprie tradizioni che conserviamo gelosamente ogni posto della nostra provincia delle tradizioni straordinarie di cui tutti quanti anche le nuove generazioni continuano a portare diciamo nel mondo anche e Zia Maria permette anche un racconto di tutto questo e per questo le sono grata e siamo grati noi a te alla famiglia Marcone appunto per quello che siete per quello che ci raccontate e continuate a testimoniare ogni giorno e grazie anche alla Meridiana che ha dato alle stampe appunto Storia di Franco firmato da Maria Marcone eccolo qui davvero un libro bello che punta dritto al cuore e tocca davvero delle corde importanti dell'animo di ciascuno grazie Daniela per essere stata con noi e grazie di cuore ti abbracciamo ti aspettiamo presto a San Giovanni Rotondo e naturalmente fissati l'appuntamento perché appunto al ridosso del 21 marzo ti chiameremo perché la tua testimonianza è fondamentale è un punto fermo per noi grazie a voi grazie sempre di essere accanto alla mia famiglia e accanto all'impegno grazie un abbraccio grazie a Daniela Marcone per essere stata con noi ospite su Padre Pio TV restituisco la linea alla regia andiamo di nuovo in pubblicità e poi di nuovo insieme